Lettera del sindaco di Agrigento Marco Zambuto. La Commissione europea boccia la Sicilia. Governo regionale impantanato tra i contrasti. Occorre operosità. Dario Piparo. Marco Zambuto torna a impugnare la penna, metaforicamente, per indirizzare una nuova lettera aperta. Questa volta il corrispondente epistolare, sempre metaforicamente, è la Regione. La Commissione europea ha pubblicato l'indice annuale sulle regioni più competitive d'Europa. La Sicilia, su 262 aree, si trova al posto 235. Soltanto 27 regioni in tutto il continente sono combinate peggio. E lo studio, come sottolinea Zambuto, si basa su qualità istituzionale, stabilità economica e infrastrutture. Ed è su questi campi che emerge il tono pungente del sindaco di Agrigento, quasi da teologia morale. La Sicilia sta in coda perché è vecchia e ingessata, scrive. Le istituzioni non funzionano, i servizi non funzionano, la burocrazia è padrona e blocca tutto. Da queste parole emerge un fattore di comunanza, quello che vede gli apparati politici e istituzionali. Parlare degli stessi apparati politici e istituzionali, come fossero entità terze, esterne dalla propria possibilità di intervento. E se è vero che la Regione sembra impantanata in mille discussioni, come sottolinea lo stesso Zambuto, altresì potrebbe dirsi del comune di Agrigento, dove la situazione continua a non delinearsi. Incertezza amministrativa, con un'aggiunta che continua a tardare. Servizi ed economia imbrigliate in mezzo a guerre secolari tra comune, girgenti acque, atorifiuti e idrici, che sembrerebbero quella delle due rose tra Lancaster e York. Tralasciando, ma forse non troppo, le questioni relative a piano regolatore, rete fognari e depurazione. Zambuto rincara la dose, parlando di lentezze, disfunzioni, tabella H, lobby, ma soprattutto di una regione strozzatura, utilizzando un neologismo che frena in modo determinante le condizioni delle comunità locali. Ma è il finale della lettera che rappresenta, forse neanche troppo consapevolmente, la chiave di lettura più interessante. Zambuto promette di mantenere il suo sostegno a Crocetta, ma avverte che non aspetterà inoperoso a guardare la Sicilia scavare il fondo dei ranking. Lo dice utilizzando un plurale, forse maiestatis, forse no, ma quel non aspetteremo sottintende molto. Magari cominciando a mettere da parte il ricorso al passato, regione o comune che sia, situazioni economiche relative ai vari Lombardo, Piazza, Cuffaro o Sodano, tanto per dire. Perché, concludendo con le parole di Zambuto, sarebbe un default mortale.